Continua sempre più serrato il confronto tra il sindaco di Gela e Caltacqua. In dieci anni di gestione del servizio idrico integrato, ha detto Domenico Messinese, continuiamo a patire gli stessi disagi che confinano la città ad un livello infimo di civiltà. Dalla turnazione notturna al sistema fognario, dalla depurazione alla potabilità dell'acqua, ha continuato il primo cittadino. Pretendiamo da Caltacqua dati certi investimenti che finalmente diano le risposte dovute all'utenza. Nel corso di un recente tavolo con la società spagnola, attorno al quale erano seduti anche ASP, Genio Civile e altri attori istituzionali coinvolti, il sindaco Domenico Messinese ha chiesto chiarimenti sulle azioni di Caltacqua in merito al collettore fognario di Vivenezia, gli scarichi del lungomare Federico II di Svevia, alla mancata erogazione H24, come nella nua rete di San Giacomo, al completamento dei lavori al quartiere Sant'Ippolito, alla verifica dei serbatoi di Montelungo, al dissequestro e potenziamento del depuratore di Macchitella, alla gestione degli impianti realizzati dall'ENI. Caltacqua ha annunciato una pulizia straordinaria dei collettori del lungomare e di Via Venezia, oltre all'attivazione di due idrovore per il sollevamento delle acque nei pressi dell'Acropoli con il potenziamento energetico della struttura, misure ritenute insufficienti per il sindaco Messinese e che potrebbero non essere realizzate in tempo in vista delle piogge autunnali. Assente il commissario del lato idrico che per Caltacqua avrebbe varie responsabilità. Se Caltacqua non è in grado di realizzare i progetti per Gela, lo ammetta ufficialmente e noi agiremo di conseguenza, ha tonato il sindaco in attesa di una relazione pubblica che la società che gestisce il servizio idrico depositerà a breve per rispondere ai quesiti dell'amministrazione comunale di Gela.